Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come potenziare o alterare un'arma facilmente e velocemente. Per prima cosa assicuratevi di giocare in modalità rissa squadre. Perché rissa squadre? Perché in questa modalità partite già con 150 di ogni immateriale. In questo modo appena arrivate nel punto da me indicato raccogliete una qualsiasi arma e potete alterarla o modificarla. In questo modo se vi capita una sfida che vi chiede di modificare o alterare un'arma potete farlo velocemente. Diciamo che questo strumento che permette di alterare o modificare le armi è collocato un po' ovunque nella mappa però qui lo trovate sempre ed è sicuro. Quindi qui tra Parco Pacifico e Autorità Borgo Pislacco e Fattoria Frenetica, praticamente al centro qui, c'è questa struttura dove al primo piano, quindi al piano terra, trovate appunto ciò che vi occorre per modificare o alterare un'arma. Quindi raccogliete un'arma qualsiasi ed entrate nell'edificio e andate al piano terra. Quindi prendete una qualsiasi arma, è indifferente, mettete modalità rissa squadre, avvicinatevi qui e premete il pulsante per potenziare l'arma. In questa modalità avrete fin da subito a disposizione i materiali per potenziare l'arma. Quindi diciamo, se vi legate qui, potrete velocemente e facilmente potenziare o alterare le armi.